E' tempo di immergerti nei tuoi giochi preferiti con la nuova serie MAG272C. Goditi un'esperienza come non mai con la curvatura 1005R, molto simile alla vista naturale dell'occhio umano. E grazie al refresh rate di 165Hz e al tempo di risposta di un millisecondo su risoluzione Full HD o 2K avrai il vantaggio di un display fluido come non mai. L'app dedicata di MSI Gaming OSD ti permette di creare profili ottimizzati per ciascun gioco, attivabili velocemente grazie ai tasti di scelta rapida. Per eliminare problemi come tearing e shattering, tutti i modelli hanno il supporto AMD FreeSync. Per goderti ancora di più le numerose ore di gaming abbiamo aggiunto un'ampia gamma di colori e l'esclusiva tecnologia Night Vision. MSI Mystic Light assicura una personalizzazione RGB mai vista prima d'ora. scegli il colore direttamente con l'app Mystic Light. I monitor hanno anche porte USB di tipo C per migliore connettività e ricarica dei dispositivi. Per tutte le caratteristiche e informazioni visita la pagina del prodotto. Grazie per la visione!